Ciao a tutti e bentornati su Counter-Strike Global Offensive con Mr.JazzonZeroStube Salve a tutti E oggi faremo una mappa particolarmente speciale Perché appunto questa mappa è stata ispirata a Hotel Miami Un gioco meraviglioso A opinione mia Che stai facendo con le sedie? Oh mio dio Prima ne ho fatta volare uno saltandoci Oddio santo La fisica delle sedie di CSGO Oddio l'ho infilata Oddio guarda come l'ho messa lì Ok comunque Sì dunque vediamo un po' come hanno fatto questa mappa Qui c'è un pannello con Cambiamo canzone Oddio vieni qua Si compra le armi Uh Bella lì Si fa Baldoria Baldoria Con l'MP9 Baldoria con l'MP9 sì Allora prendiamo lo Zeus Io mi prendo l'MP9 sì Ok Ho preso la roba Ho preso una Zeus Un'MP9 Una granata Ok allora difficoltà Che difficoltà mettiamo Uno o due No perché Dopo ho troppo Facciamo estremamente schifo Facciamo uno No Ok Facciamo start eh Uh dobbiamo rispondere al telefono Oddio la voce MLG Oh qui c'è un caricatore Dunc tele... Eh? C'è un caricatore qui Io non vedo niente per terra Che stai dicendo? Allora Ah di sì Di accanto Sì l'ho visto anch'io Con la macchina ovviamente Come nel gioco Sì Ok Spendiamo la morte Aspetta aspetta No io ho notato il tipo qui L'ho ucciso io L'ho ucciso io Ho sparato a cazzo L'ho ucciso io Oh mio dio Mi son girato e l'ho ucciso così Rosca e te rosa qua Stai a 94 di HP Ah tu? 119 Mi ha tolto solo Ok attento qui Spero che hai preso Oddio Si è fatto vedere proprio Oh Mi ha preso 44 Oddio sta arrivando Sta arrivando Mamma mia Oh 74 Ok Mi nascondo qui Vado 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 Ti seguo Ti seguo Nel camioncino vai Nel ciamoncino Ok Non c'è nessuno Corriamo 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 Ti chiedo fuori C'è qualcuno lì Mi sa che sopra c'era qualcuno Oddio Attento Oddio Oddio Mi è spuntato davanti Meno male che non c'è il pvp attivo Oh madonna Oddio un altro Veni meccato il figlio Oddio c'è una porta Oddio altri due Cazzo non l'ho beccato L'ho preso Ma cazzo La beccata 51 di HP Guarda come si insegna Ma che cazzo Cosa Oddio Oddio Ma l'hai mito Si è spaurato Vabbè Guarda come si ammordi Cioè Tipo Allora Mettiamo Cioè eravamo in difficoltà 1 Immaginiamo le altre difficoltà Mettiamo due Anzi mettiamo Dieci Dieci massimato 25 HP Oddio Cioè dobbiamo fare la mappa con 25 HP? Vabbè stavolta prendo un Nova Io prendo lo Zeus È la mia arma segreta Scommetto che Lo userò come asso Cioè dico devo ricaricare Bam Dove l'ho scosso uno stronzo Ce la fai? Salvo Speriamo Oh 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 2 HP No No 16 Oh Ucciso Oh Oh mio dio Ok Tu apri la porta Io sto qua Con Zeus C'è qualcuno Guardare quel piccolo livello Ci abbiamo messo Quanto ci abbiamo messo? Ah non lo so Ok andiamo su le scale Oddio Oddio le scale Oddio le scale Meno male che non è neve Troppo bianca Ok io ho paura qua Aspetta fammi andare qui Che fucce hai? Eh Nova Nova Ok A proposta tu hai Surprise mother fucker Oddio Oh no Madonna mia 3 ore per arrivare qui Non ce l'abbiamo fatta Vado di vederlo Cioè Mi è spuntata la sua faccia Vado dritto negli occhi Mi fissava Con quello sguardo freddo Oh Ma che cazzo Oddio 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 Bella Ok Oh ma Eccolo lì Eh Ci abbiamo finalmente fatta Dopo tipo 50 trilioni di tentativi Esattamente Speriamo Speriamo che Non crepiamo proprio qui In questo momento Infatti Sarà bruttissimo Ok sei pronto? Allora Io ti dico Che apro le porte E sto qui E tu stai lì ok Ok Aprile per te Oh Di già Sì Ma che cazzo Le han chiuse C'è uno Ok Ah 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 Chiudo le porte Arriva Arriva Perfetto Tutti a te Ce la possiamo fare Dai Apri la porta Io non so se li abbiamo uccisi tutti Ma Controlliamo Sì Piano A sinistra Non vedo nessuno Detra No Mi è spaventato Ce l'abbiamo fatta Attento qui Attento sotto Cosa Che c'è sotto Gente Gente Ah no È quello sopra Eccolo Va Ho visto una finestra Tipo Ok Ma dove stiamo andando Oddio Guarda questo tipo che c'è la maschera Il coniglietto Ma muori va Apriamo la porta Eh sta attento eh Ok Oddio È passato un tipo È passato È a sinistra eh Tu contro la destra Ma che cazzo Ma dove è andato È scomparso C'è un fucile qui Fa cagare Non ci serve Esatto Attento qui Appena apri Ok Che fucile c'hai Ah pompa Vai Nessuno A destra Oddio sono due Tre Quanti sono Erano tre E si stavano sperando a vicenda Mi sa Apri la porta Oddio c'è uno C'è uno C'è uno Che fucile c'abbiamo qua Ahia Fa cagare Ok È aperta tu Sì Ma non c'è il tipo Eh io lo sento Eh Oddio ho saltato Ninja Oh c'è cinque munizioni Aspetta Ok Devo caricare Coprimi Oh Cristo Oh Un altro Un altro Un altro Che fucile c'aveva L'NP5 Oh eccolo qua Aiaiaia Oddio santo Ok Ci siamo Ci siamo Dai Ok sopra Attento sopra Io odio queste scale Sì infatti Ok mi metto subito qua Almeno qui non possono spararci Anzi lanciarci i coni O i barili Come su C'è un tipo Ok mettiti qua Arrivo io Morto 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 Quanta vini Quanta hai Hp Hp C'ho 77 Sì sì Sono buoni Andiamo Mi nascono nel bidone Dio Dio Mi ha preso Dove sta Non lo so Oddio Dove sono due Arrivano Arrivano L'ammazzo L'ammazzo Carico 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 Sono qui Ah la tua destra Stanno No aspetta Non c'è nessuno Oddio Eccolo L'ho beccato L'ho beccato L'ho beccato E' morto E' morto Che non si sa mai Ricarico Ricarica Ricarica Di due colpi Allora aspetta un attimo Io vado a sinistra Tu capri mi Cari 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 A cappone Vai 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 A cappone Lo vuoi te? No no Mi piace tanto Sto fucile Ok perfetto E' overpower Minchia Starline Sei qualche Oh aspetta Aspetta Non tanti Non tanti Eh sto sperando Oddio santo Ti avvicinavi Boom Aspetta qui c'è gente Ci scommetto Appena scendiamo Ci sciottano Secondo te Qui non sono granate Andiamo Vado io per primo Oddio No 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 è impossibile Dai Comunisti Comunisti Oh mio dio Maledetti Maledetti Bastardi Siamo noi terroristi Non loro È difficile È troppo difficile Eccoci qua ragazzi Dopo Quanti tentativi? 24 tentativi? Troppi Cosa? Torna la Oh Scusa per l'urlo Ma Dopo 24 tentativi ragazzi Spero Spero che non dobbiamo rifare Cioè Oh no Via 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 Non ne voglio più Dovrebbe esserci più nessuno E infatti solo te in Miami Non c'è più nessuno Quando te ne vai Almeno che Non ci sta un boss Oh te la hai mai Dubito Corri 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 Aspetta Vandalismo Ok Corri 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 Per sicurezza Per sicurezza Ah no Vai 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 Via 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 macchina Macchina Salvezza Salve signore Addio Oh Sono morti tutti Oh Ma che Abbiamo finito? Sì abbiamo Finito Abbiamo finito Abbiamo ri No No Ti prego No Oh madonna E' pieno Chienissimo No Un'altra missione Impossibile Oh Ti sento No 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 Io non la faccio Basta Dopo 24 tentativi Basta Ci sono rotti le palle davvero No non ce la faccio più Però Ah però abbiamo i soldi eh Eh sì Abbiamo i money Oh Che funcione c'hai? Cosa? Che funcione c'hai? Se vuoi ti do la capa io mi prendo le m4 La galli Vabbè ma c'è anche per i soldi Vabbè dopo vediamo Comunque ragazzi Il video lo finiamo qui no? Sì sì Finiamolo qui Il video Eh perché Devo fare una pausa Devo bere Devo idratarmi Eh ci vediamo sì Entriamo in macchina Vediamo se c'è davvero un'altra missione Stavo già per salutare Tu mi dici Entri in macchina Vediamo Sì c'è un'altra missione Oh cristo di un dio Che penso che la faremo in futuro In futuro sì Ma non adesso di sicuro L'armatura L'armatura Vabbè sarà Tanto non la dobbiamo fare adesso Cucù Oddio Ok ecco Così finisce il video Basta Basta Dove sta andando Oh la canzoncina è bella però Tutututututututu